...per una persona che purtroppo non c'è più. Lui ha voluto dedicare questo brano alla sua mamma, con questo brano che Alex ha scritto, è il suo primo brano comunque, ha voluto dedicare proprio questa persona importante. Lo vogliamo dedicare non soltanto a sua mamma, ma a tutte le mamme, signori, una lacrima... Dal cielo. 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 Grazie.